Marco, di oggi la notizia del rinnovo del contratto, hai prolungato con Siena, ormai legando il tuo futuro, almeno per i prossimi tre anni, che sensazioni ti dà sposare questo nuovo progetto? Una scelta d'amore alla fine per una società che mi ha fatto diventare grande, per un staff tecnico che mi ha dato fiducia, per una città che mi ha accolto e mi ha integrato quasi fosse un figlio adottivo, quindi una scelta che mi ha fatto felice, sono contento di rimanere qui, il cammino fatto finora è stato sicuramente di grandi successi e quindi stupendo, spero che anche i prossimi siano pieni di vittorie e pieni di soddisfazioni. Questa mattina anche test per valutare il vostro livello di crescita atletico, come stai? Insomma, a detta dei preparatori atletici sto abbastanza bene, sicuramente sarà un anno impegnativo per me, un'esperienza nuova durante l'estate con la nazionale, però d'altro canto è stato un periodo dove non sono riuscito a riposarmi, quindi insomma un anno di riscoperta dopo un impegno estivo, comunque insomma sto bene, sono contento, a Bormio abbiamo lavorato bene, sono contento anche di quello che siamo riusciti a fare come squadra, come alchimia, penso che possiamo migliorare tanto, però siamo già a buon punto. Quattro anni con ricordi straordinari fino a questo momento, ce ne sono alcuni in particolare? No, li prendo tutti, ho fatto dentro la mia testa un box dove metto tutti questi bei ricordi, sono sicuro che poi un giorno quando smetterò, quando diventerò vecchio e ricorderò il passato sicuramente sarà la parte più bella della mia carriera, non solo dal punto di vista personale ma di squadra, di città, di famiglia, perché comunque qui ho trovato la mia dimensione, mi sono sposato, è nata Giulia mia figlia, quindi insomma un'esperienza positiva a 360 gradi. Saranno sette anni fino al 2013, una cosa che non succede mai più, non dico nel basket ma nello sport? Sì, probabilmente in uno sport professionistico come quello di oggi è difficile che un giocatore riesca a fermarsi così tanto tempo in una squadra. Forse le bandiere che c'erano una volta ora non ci sono più, però sono contento io come altri miei compagni di essere insomma parte integrante di questo gruppo, di essere lo Stato e di esserlo ancora per diversi anni. Quindi insomma il mio impegno è ancora totale nel senso che comunque essendo qui mi sento ancora più responsabilizzato in una città che ormai sento come mia e quindi insomma sarà un incentivo in più a far meglio. Maglia nuova, c'è sempre il solito scudetto, ormai vi siete abituati ad averlo sul petto? Sì, infatti per quello si cerca di non scucirlo perché insomma se no sarebbe un po' vuota come t-shirt, insomma è più bella così ecco. Grazie a tutti.